Ciao a tutti cari amici, volevo informarvi che online il mio sito www.albertocaccialanza.it potete trovare tutto ciò che riguarda i miei video, le mie iniziative e i miei incontri. Poi come al solito mi avete già sentito che insisto sull'iniziativa Uniamoci, infatti ho creato una sezione intitolata Uniamoci, registratevi, lì ci sono tutte le istruzioni, troverete tutte le istruzioni, l'obiettivo è quello di creare un gruppo almeno per ogni città per affrontare al meglio i tempi che stanno arrivando. Insisto sempre perché non ci possiamo scappare, dobbiamo tutti quanti unirci ed è un'iniziativa che serve soprattutto alle persone che ancora si ritrovano da sole e che magari hanno anche una certa età. In questo sito potete trovare tutto ciò che riguarda anche le iniziative e gli incontri, i video di Silvia Di Bello, Tina Fasanella, Arianna Martini e Ramon Gomez. Quindi visitate tutto questo sito e diffondetelo ai vostri amici, ai vostri conoscenti. Grazie mille a cari amici, ci vediamo. Grazie. Grazie a tutti.